Ciao a tutti sono Ale Bellotto e il 25 marzo alle ore 20 e 30 sarò al teatro sociale di Belinzona. Oltre a me sul palco vedrete artisti veramente veramente bravi. La serata è bellissima, si chiama La Risata che Unisce ed è bella perché con noi sul palco ci saranno delle traduttrici del linguaggio dei segni per cui è veramente uno spettacolo per tutti. Quindi vi aspetto lì, il 25 marzo alle 20 e 30 al teatro sociale di Belinzona.